Ancora controlli, nuovi sequestri, dopo quello a carico di un'azienda di Costa Masnaga, messo a segno dalla Guardia di Finanza di Comunca, ha sequestrato 45.000 mascherine perché prive delle opportune certificazioni. Anche i colleghi del Comando di Lecco, infatti, impegnati in una serie di controlli a tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra operatori economici, hanno bloccato prodotti risultati non idonei alla commercializzazione. Incrociando i dati delle dichiarazioni doganali con le banche dati in uso al corpo, i militari hanno individuato due aziende dell'altolario che presentavano alti indici di rischio circa l'osservanza delle stringenti norme in materia di DPI di natura sanitaria. I successivi controlli ispettivi hanno così portato al sequesto di 1.014 mascherine FFP2, dispositivi di protezione individuale di terza categoria, e di 42.250 mascherine chirurgiche pronte per essere immesse in commercio. La documentazione esibita dalle aziende durante i controlli, il certificato di compliance e il test report, rilasciata da un ente non rientrante fra gli organismi autorizzati, è risultata non idonea per la posizione della marcatura CE, non garantendo quindi i previsti standard di sicurezza per il consumatore, spiegano i finanzieri. I responsabili sono stati denunciati per frodo nell'esercizio del commercio e sanzionati per emissione sul mercato di dispositivi di protezione individuale non conformi ai requisiti.